La GS è una società che è stata costituita vent'anni fa da venti comuni, è stata una veduta lungimirante perché offre un servizio, un'azienda snella offre un servizio interessante sui nostri comuni. I nostri comuni in principal modo sul mio comune in questi ultimi anni sono stati fatti dei lavori tipo una pompa di rilancio tra due depositi per tenere sempre in pressione l'acqua e garantire la fornitura di acqua ai cittadini e alle strutture alberghiere. Ha fatto delle riparazioni, una parte di riparazioni sul territorio di tubazioni vetuste e si sta sempre adoperando e sempre cedere nelle riparazioni. San Zio di Montagna è un paese che ha particolarmente bisogno dell'acqua, perciò le opere devono essere fatte ed essere pensate in anticipo per non rimanere senza acqua perché nel passato abbiamo sofferto abbastanza. Perciò il pompaggio da PAI che è stato fatto circa 50 anni fa funziona ancora, però le tubazioni io ritengo che siano vetuste e vanno controllate per evitare perdite e per garantire eventualmente sospensione dell'acqua. Poi è necessario, abbiamo due opere importanti che si possono fare sul nostro territorio. Uno a località Villanova, un deposito per garantire successivamente l'acqua anche ai paesi, alle frazioni di Fasore, di Biasa, frazioni di Brenzone. E poi un'altra opera che ho portato, che ritengo importante e risolutoria per il futuro, è un deposito più a monte in località San Simón, una qualità sopra il deposito di Ipore, circa 300 metri superiore, che in questo modo si garantirebbe l'acqua per caduta a tutto il territorio di San Zio di Montagna. Il nostro paese si sviluppa su circa 3 chilometri. Una parte, un chilometro e mezzo, è stato fatto negli anni passati, la nuova tubazione è stata sostituita, abbiamo circa ancora un chilometro di tubazioni da sostituire. È importante sostituirla perché durante il periodo estivo, quando le pressioni sono più elevate, evidenziamo parecchie rotture. Grazie. 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 Grazie.